Ah, eccolo, il top, tutto super stretchy, top in jersey con gli inserti in pizzo, anche essi elasticizzati. Allora, devo dare un'informazione di servizio, perché per noi ragazze è tutto nei vostri carrelli, quindi per noi sarebbe un sold out tecnico. Io vi invito a chiudere gli ordini, mi raccomando, tra un quarto d'ora, dico alle amiche che magari lo vogliono, qualcuno magari lo fa uscire dal carrello, tra un quarto d'ora andate di nuovo a rivedere sul nostro sito, magari qualche pezzo ritorna indietro, però chi ce l'ha nel carrello io vi invito a chiudere gli ordini, perché per noi in teoria è un sold out tecnico. Bene, allora adesso ritornerei, se sei d'accordo con me, guarda che bella vestibilità, guarda che bella vestibilità che ha quest'abito, scende morbido. Questa è una manica 7 ottavi, qui dobbiamo stare attenti a cosa? Il punto fianco, il punto seno? Qua dobbiamo stare attenti al punto fianco, ai fianchi e il giro seno, il giro fianco e il giro seno. Quindi è importante, poi dipende se avete più seno, più fianco, in base a dove avete più centimetri, ovviamente quello sarà la taglia che farà a fede. Tabella taglia sul nostro sito www.qvc.it dove potete andare a vedere appunto la tabella taglia riguardante il brand Caterina Lancini, ricordo che per ogni brand c'è la sua tabella taglia. È un abbinamento che amo particolarmente. Allora ragazzi, la nostra maglia sta piacendo un sacco, è una t-shirt in jersey con cotone e scollo. Noi l'abbiamo chiamato barchetta, però tu appunto mi evidenziavi il fatto che sia un pochino più morbida rispetto alla barchetta. Sì, ma anche Pier me l'aveva precisato. Io amo lo scollo a barchetta, però uno scollo che comunque è più accollato. Lo scollo a barchetta è proprio un taglio verticale. Invece lei l'ha svasato e approfondito leggermente di più proprio per mettere in evidenza ancora di più una parte del corpo che noi amiamo molto che è il décolleté. E' un décolleté.